Dato il prolungamento delle misure restrittive anti-contagio, continuano le celebrazioni eucaristiche presidute dal Vescovo della Diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi, trasmessa in diretta televisiva su Tele De On. Ieri la Santa Messa celebrata da Monsignor Manzi a porte chiuse dal Santuario Madonna del Sabato di Minervino Murgia. Ascoltiamo. Il racconto dei discepoli di Emmaus assomiglia molto alla nostra vita di tutti i giorni. Non è forse vero che tante volte noi veniamo a Messa proprio come i due discepoli. Facciamo una strada di andata verso la Chiesa, stanchi, sfiduciati, indolenti, delusi da tante cose, vorremmo quasi non andare. E a volte noi arriviamo in Chiesa proprio come i due discepoli, senza grande convinzione, senza crederci troppo. Però qui accade qualcosa. La parola di Dio ci viene annunciata, il cuore si scalda, ci sediamo alla mensa e si ripete quel gesto. Il pane si spezza per noi. Prendete, mangiate. Quale dovrebbe essere allora il frutto di questo incontro col Signore? Come i discepoli di Emmaus. Quando sarà finita la Messa, il celebrante ci dirà La Messa è conclusa, andate in pace. Non è una formula generica di saluto. Ma ci manderà per il mondo ad annunciare questa nuova vita che intorno all'altare abbiamo sperimentato. E allora, fratelli, impegniamoci. Cerchiamo di mettercela tutto, perché Gesù è risorto. E vale la pena impegnarci per costruire un mondo nuovo. Lui è con noi, ci dobbiamo credere. Se questo mondo nuovo non nasce, è perché noi per primi non ci crediamo. È una cosa rituale che facciamo, ma non perché ci crediamo col profondo della nostra vita. Cari fratelli, allora, apriamo gli occhi. Riconosciamo Gesù nella parola che scalda il cuore, nel pane che si spezza, ma riconosciamo Gesù anche in ogni fratello che cammina con noi. Riconosciamo Gesù anche in ogni fratello che cammina con noi.